ORIEN Va bene così Cosa hai detto? Ti sento in colpa Ti senti in colpa? Scherzo no 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 Ti sei vista? Ti sei vista? Con queste scarpe tutte sporche bro Flex Oggi siamo a Napoli Direttamente dall'Emilia Romagna Giù in campagna Mostra un po' Il nostro pubblico Dai dai un applauso Mostra un po' Oggi Abbiamo deciso comunque Di cambiare un po' Il format si 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 ci vuole Lo sapete Oggi ci sono tre bellissime ragazze Inquadra pure le ragazze Contro tutti questi Contro questi bei maschioni Questi bei maschioni Ok 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 Allora praticamente La challenge di oggi Comunque è uno show ormai Si 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 Allora le ragazze no Uno ad uno Devono andare comunque dai ragazzi Per metterli in fila Dal più attraente al meno attraente E il meno attraente purtroppo Sarà eliminato E poi rimarranno comunque tre maschi I quali comunque devono sempre andare dalle ragazze A metterli in fila anche loro Giustamente Interessante Dalla più attraente alla meno attraente Quindi tutto da vedere È tutto un gioco Molto interessante Vediamo cosa succederà Ok Napoli la roba Ok Siete carichi no? Siete carichi? Yeah bro Ok 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 Abbiamo Lupo oggi che ci darà una mano Eccolo Lupo vieni 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 Un applauso per il lupo Allora 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 Bella raga Cosa dici? Eh t'apposto 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 Fratm Ok ok Quindi oggi la roba è cosa? Oggi è Napoli oggi Cerchiamo di fare il meglio Ok Dai Ok Ragazzi come avevamo detto Siamo pronti Quindi Cominciamo Allora Partiamo subito con Lei Hola Qui è Iba Qui giù c'è il mio Instagram Ibas Con quattro A Frattino basso E qui stiamo Allo smash of past A Napoli finalmente E niente Andiamo a vedere un po' se la roba è smash of past Tieni Vediamo Qua hai bei maschioni Guarda Stanno brillando Sai già E quindi secondo te Devi chiedere a uno A uno A uno A uno Se ci stanno o no Allora Allora Vai Quanti anni hai? Diciotto E dove sei? Sei a Napoli Caserta in realtà E origini? Dominicana Ok Anni avanti Vabbè Conosco lui Ah Vi conosciete? Vilello Vabbè Quello solito tipo era... Vilello Vabbè Vilello Niente domanda? No vabbè Ah ok Sì ci sta Ci sta? Piacere Iba Piacere sei a Vici Quanti anni hai? Io Diciasetto Dove sei? Io Nigeria Nigeria Burda Boy Capi? Sì 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 Piacere Iba Quanti anni hai? Diciasetto No ti piccole Dove sei? Diciassette? Sì? Ma tu? Venti anni Ah ok Vabbè Dai Devo mano Non è un problema Non è un problema! Vabbè metà costa lavoro e metà gan Ok, becca a metà Cute Ivan Piacere Zichela Quanto erai? 20 Origini? Niceriano Ok Costo Piacere Calib Quanto erai? 17 06 606 06? 606 26 Sono di Lagopatia, che sai, è il più famoso Un po' più di forte Sono di Lagopatia, che è il più famoso Ma provengo dalla Tanzania Tu di dove sei? No, provincia di Novo Quindi proprio Napolitano? Ah, marocchino Si Ok Ok Quindi adesso Devi mettere in fila Dal più attraente Al meno attraente Quindi Tocca a te Allora Il più attraente sarà qua E il meno di qua Quindi più di qua Si E quindi Secondo te Lui è il massimo Lui Ehi Aspetta Aspetta Dove lo porti? Aspetta Ok Ok Vi spostate un po' più là, ragazzi Ok Wow Aspetta Ok Quindi aspetta Aspetta No Scabbiatevi Scabbiatevi Addirittura Ok 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 Così Ok Quindi per te Lui è il più attraente Si E lui meno Si Ok Dai Sentiamo il perché Cos'è che non ti ha convinto di lui? Boh No Non mi convince Non ti convince E invece è lo stile Lo stile? Lo stile? Balenciaga Off white Cosa Cos'altro? No Solo i pantaloni mi piacciono Mi piacciono Mi piacciono Non ti piace? No Mi piacciono Ok Quindi te cosa hai da rispondere? Cioè La sua scelta va bene per te? Va bene Ti cominciamo a loro i gusti Ok Allora Dai Mostra bene la palla quando lo scoppia Hai Fai vedere ORIEN 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 Cazzo Era forte Era forte Era forte Ok ok Allora Capo Ti saluto Sarà per la prossima volta Ok Dai Ci puoi aggiungere? Sì 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 Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Sia a posto Sia a posto Sia a posto La situazione è già calda Allora Adesso Andiamo avanti Con Lei Ciao ragazzi Sono Veronica Grey Vi consiglio di seguirmi E vediamo cosa succederà Ok Allora Che ne dici di lui? Ci sta Ci sta Hai qualcosa da chiedere? Quanti anni hai? 17 Ok Ma te di chi? Tu invece? Io? 22 Ah 22 Fa niente? Fa niente, fa niente, fa niente Ok Ok Niente, va bene A posto Ok E lui invece? Sia a posto Sia a posto Sia a posto Sia a posto Su Instagram Ok Ok Bene Andiamo avanti Allora Come ti chiami? Ezekiela Quanti anni hai? 20 Ok Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Andiamo Ok Lo conosco Più o meno Più o meno Più o meno 17 17 17 Ok Però le 22 va bene? Va bene Ah no va bene Why no Why not? Ok va bene Andiamo avanti Lui invece? Come ti chiami? Eladio Ok Anche lui l'ho visto Ma non mi ricordo bene Ehm Bel stile Ci sta dai Sì Quanti anni hai? 18 18 Ok A posto Ok Allora Adesso Dovemmo mettere in fila Ok Dal più attraente Che sarà qua Al meno attraente Quindi Tocca a te fare La tua scelta Allora Dal più figo? Dal più figo Ok Lui Ok Ok Aha Poi Poi Chi? Ehm Quindi lui 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 Ok Ok Ehm Ok 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 Chiaro Chiaro Un po' più qua Ragazzi Ok Poi No Aspetta 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 Calmiamoci 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 Cioè Ok Adesso sentiamo il perché Ah Oh Oh No No Non dice niente Andiamo in stile Andiamo in stile Quindi Mi sento in colpa Shhh Shhh Cosa hai detto? Mi sento in colpa Ti senti in colpa? Scherzo no Beh Scherzo no 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 Ti sei vista? Ti sei vista? Ti sei vista? Si Con queste scarpe tutte sporche bro Guardi un po' Cazzo Giugato a gol 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 Allora Allora Come avete visto La situazione si sta facendo calda Ok Adesso Tocca Lei Ciao ragazzi sono Ruby Seguitemi su IG Rubimehiyabe E oggi vediamo anche il smashare che passare Allora Sentiamo La situa Bella rega Siamo a Napoli Per lo Smasher Pass E Vabbè questo qua è il mio IG E vediamo che succede Ciao Ciao Come ti chiami? Cristian Tu? Ruby Piacere Quanti anni hai? 17 Che ti dici? Chi c'ha? Chi sta? Andiamo avanti Quello che è? Quello che è? Ehi! Aspetta! Come tu ti chiami? Io Io Della Vega Ah ok Già 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 Ragazzi Non sto capendo niente Però sembra interessante La situazione Vabbè ci sta lo stile Ci sta Ok ok andiamo avanti Ciao Ciao Come ti chiami? Ezekiela 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 Quanto anni hai? 20 La sera ci sta, mi piace Sì, più forte Ok Ciao Ciao E... Di dove sei? Marocchino Quanto anni hai? 17 Va bene, ok Adesso Si fa sempre Ok Dal più attraente al meno attraente Tocca a te Si sta guardando forte lei Cioè, guarda, guarda tutti questi feet Cioè È difficile Sì, adesso è un po' più difficile Perché adesso Eh, si sta un po' facendo dura la situazione Oh, ok Il primo Ok, ok Poi? Va bene così Va bene così? Finita così Ok Allora La situazione è calda Adesso siamo a tre A tre Toccano i ragazzi E quindi Il primo Tieni Calo che calo che Stiamo qui Smasher Fest Napoli Andiamo a vedere un po' come la situazione Andiamo Allora Chiedi tutto quello che vuoi chiedere a tutte E poi vediamo la situa Calo che Che bene bene Che lo che Che lo che bene bene Ok Sei bene E tu? T'apposto Di dove sei? Che origine hai? Marocco Marocchino E cosa cerchi in un ragazzo? Cosa cerchi in uno ragazzo? Interessante L'altà Prima di tutto E basta E basta In realtà Ok La cosa è più importante Fai pensare Cantante preferito Allora Io sento più quelli francesi Ok PNL Non so se li conosci Oh boia Ci sto Next Onesto Ciao Ciao Come va? T'apposto? Sì A te Più forte ragazzi Tanti più forti A te Sì T'apposto Però Unica cosa Non far finta di non conoscere Che ci sappiamo troppo bene Non è vero Del resto T'apposto Ti conoscete? Troppo bene In che modo? Troppo bene Troppo bene 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 Ci conosciamo bene Però fa finta di non conoscere Giusto se fosse Ok Ok Vabbè Se non volete parlare Sta forzando Sta forzando Sta forzando Sta forzando Sta forzando Giusto se fosse Ok Giusto se fosse Sì Ma non come dice lui Ok Non sto dicendo niente Ci conosciamo bene Ci conosciamo bene Per questo Ok Sta forzando Ok Va bene Andiamo avanti E Ti gusta averlo baciato? Sì Mucho Sì Salzo baciato Volete ballare qualcosa? No Cioè se volete pure male Cioè Io non ci sono problemi Ah Vuoi provare? Fora una battita No Hai detto di no Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Dembo? Sì Claro Quanto agno tiene? 18 Ok Già Tamocili Tamoruli Io ho capito 18 Va bene Va bene Ci siamo Ci siamo La tua scelta Devi fare Allora Dal più attraente Al meno attraente Quindi il più qua E il meno di là Sono solo il 3 Quindi Ok 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 Basta A posto così Aspetta Prima di scoppiare Il motivo Sta cappando Non mi piace Quando cappa Ma aspetta Forse almeno se dice la verità Ti sta cappando Non mi piace Quando cappa Vai Fa finta di non conoscermi Va bene così Ok Adios Allora 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 Qua la situa E due v tre Due ragazze Contro tre boys Partiamo da lei Che fai nella vita? Studia Liceo Anno Quarto Ok Io Mi chiamo Elzy Su Instagram E oggi Qua lì Tu che fai nella vita? Gioco a calcio Sono modello Cacciatore Modello Ti piace? Sì Tu che fai nella vita? Studio Ballo Faccio il modello Questo faccio Ok Balla tempo? Oh no Solo Non solo Quello Non solo Quello Ok Adesso Metti Dai più attraenti Qui Ai meno attraenti Lì Ok Sceghi tu Ah partiamo da lui Ah partiamo da lui Ah in mezzo lo metti Lo metti in mezzo In mezzo lo metti Ah Quindi Lasci fuori lui Ah Deo Spiega perché 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 Ok quindi Hai messo lui come più attraente Sì Come primo Secondo e terzo Ah Perché hai fatto fuori lui? Sono più di basket Sei più? Di basket Ah Non ho capito Sono più di basket Quale Quindi non ti piace il calcio Ciao Allora Ora 2v2 Allora Adesso siamo a 2 contro 2 I ragazzi Dai Ciao Sono Bilal Bilal Insegnore G E vediamo cosa fare Futurno Come ti chiami? Hurubbi Quanti anni hai? 18 Che fai la vita? Studio Cosa? Turismo Hobby Nessuna parola Più forte Più forte Più forte Wesh ha happi Wesh Codè la base? Codè la base? Alhamdulillah Gli è bosta Guardami un'altra volta Ah Mi state fissando proprio Sei musulmana? Si Ovvio Si Ovvio Ma aspetta una cosa Ti gusta? Ti gusta? È mia compaesana Normale Ok è normale È normale Ok ok Sicura di essere musulmana? 100% 100% Preghi Appaiai Preghi Si 5 o 3 giorno Ok Quindi È difficile qua Però secondo te Come la metti? Tutto è bello ragazze Ah Però Compaesana 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 Ok E te cosa rispondi? Per me va bene È un po' dispiaciuta però Mi dispiace Mi dispiace Ok Adesso Due contro uno Siamo quasi alla finale Ok Tieni Andiamo Sta a te è tutto Sta a te Ciao di nuovo Ciao di nuovo Allora C'è una connessione qua comunque vedo C'è feeling Hai mai tradito? Hai mai tradito? Quante relazioni hai avuto? Due Due? Halal o haram? Halal Sicuro? Sì Sicuro Ok Ok Va bene Tu hai mai tradito? Quante relazioni hai avuto? Due Due Serio? Serio Un anno, una e sette mesi l'altro Un anno? Chiaro Madonna Ok Ok Altre domande? No No Ok Adesso Adesso Mancano solo due Devi Scegliere te Secondo te Chi di loro due È il vincitore Cioè Quello che Andrà al match finale In difficoltà Sì Anche perché Io ho un tempo libero Ragazzi Quello apparecchio E ce l'hanno entrambi Ah Ok Ce l'hanno entrambi Ok Ok Ah sì È difficile Sì Purtroppo devi scegliere Allora Che ne diti Ok Sta pensando Cioè Vado a scoppiare quello che non ho Sì subito Subito Vai lì scoppia Con molto dispiacere Oh Hai qualcosa da dire Ci sta Ci sta Ci sta Ok ok Va bene Va bene Dai Ok 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 quindi ragazzi Siamo Finale Allora Abbiamo lei E lui Dovete chiedervi Delle domande E poi in base alle domande Alla fine Scegirete se Va bene o no Parte prima lui Vuoi chiedere tutto quello che vuoi Cosa ti differenzia dalle altre ragazze Perché dovrei Mmm Cosa ti differenzia Allora Innanzitutto Innanzitutto Sono una musulmana Musulmana Magari possiamo andare a pregare insieme Alla mecca Ok 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 Poi Quando mi piace davvero una persona Do città mia stessa E Vado basta Ok Ok Va bene così Come risposta Tocca a te Come chiedere Hai mai litigato con qualcuno Per una ragazza Ma litigato oppure va a botte 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 Alla fine che ha vinto Eh Non si può dire Vabbè lui Non lo so Non lo so Ok Ok Nostra domanda Ah la so Ok Dai Allora Secondo voi Tu E tu Vai d'accordo con lei Va bene Tu sei d'accordo Sì Quindi facciamo un match Se no Posso sempre lasciare la palla a lui E puoi scoppiare No Ok ok Alla fine L'amore vince Ok Quindi Un altro match qua Ok Vi abbracciate Vi abbracciate Dai 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 Ok 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 Allora Sulla guancia Sulla guancia Aram Aram Come è aram Sulla guancia Dai 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 Eeeh Va bene Va bene Va bene Dai Ok va bene Dai Grazie, grazie, grazie.